La mia proposta di salvaguardia degli enti in bilancio, proposta di delibera che unitamente abbiano attenzione alle case della quale è la parte integrante, credo che potrebbe intendersi anche particolarmente già diversi, particolarmente saustiva e dettagliata. Fondamentalmente la variazione di bilancio è relativa principalmente ad inaspettati minuti e trasferimenti da parte dello Stato, comunicati unicamente soltanto alla fine del giusto, anche inizio di settembre 2011, in pieno costo di intervenzione, per rinvolto complessivo di 792.000 euro circa e a maggiori distanziamenti per 700.000 euro per somme materialmente incassate dal fonte per provvedere da conto di inizio. La variazione si concreta tra l'altro con minuti in pese per il centro lato per il quarto settore per l'euro 100.000 euro circa, dopo uno per le sessioni comunali, per il primo settore presentato di 710.999 euro, non c'è un periodo di economia presentato di 833.000 euro circa, con gli intempi di comunità dettagliatamente indicato nella proposta di delibera. in particolare, dalle variazioni dei sassi di 5 settori di economia, che è determinata che un saldo globale della manovra di equilibrio pari a 2.224 metri, diventati solamente a copertura di tutta parte del corso di marcio. e già a questo punto, a tal proposito, come sempre puntualmente evidenziato negli atti all'attentore del Consiglio, i settori hanno comunicato l'esistenza di debiti di posibilità per circa 652.000 euro, che in questa sede potranno essere completamente iniziati secondo lo schermo indicato nella proposta di delibera, per cui 450.000 euro circa dall'avanti della ministrazione, il procenso 2.000 euro dal saldo della manovra di equilibrio di obiettivo e di gestione. Oltre a dire, nel salato, la prima volta che i dettagliati sono finanziati, non solo con la manovra di amministrazione, ma anche con il saldo della manovra di equilibrio. Non sono state apportate le modifiche al piano generale delle opere pubbliche e costituisce chiaramente parte integrante della delibera, il parere del colore del sindacato, il colore del sindacato, il colore del sindacato, il colore del sindacato, che risulta veramente favorevole. Consentirmi tutto, proprio perché va in mezzo a cui una relazione istituzionale, bellissima, al di là di problemi determinati dalla disaspettata e imprevedibile sostanza, che in corso di esercizi, quindi, ripeto, tra agosto e december, il governo nazionale del gruppo, cioè senza un preaviso in una logica di attuato disponibile, abbia raggiato completamente gli esperimenti in favore del comune di tutte le oltre 700 domande consapevoli, chiaramente, come già abbiamo detto, e che di fatto hanno rappresentato un problema del valido, in quanto, comunque, non dà anche tutto, ci siamo riusciti a recuperare quello che è quello che sono i comuni. Non si può contagere il sindacato che allo strato si spedetta in una certa inversenza di spedetto al risultato. Invece il Stato della parola finanziaria, approvata dal governo nazionale, è stato pesantissimo e forse anche sicuramente troppo penalizzante per i comuni, che ha dovuto essere, ed è riconosciuto da tutti, sono l'unico compatto che mi ha dire, cioè l'unico compatto che ha detto tutto controllo non avviene, che in termini percentuali ha un po' dato di incidenza, che è un'unico razionale, probabilmente, è un'unico attenzione del 5% al 50% all'anno. Probabilmente, sicuramente, nel prossimo anno ci saranno degli utili che consideriamo i dati, che ci pensano chiaramente nella condizione dell'ottimo di dover seguire in quella che la strada interattiva, ovvero migliorare i potenziali strumenti di entrata dell'ente, una risposta positiva dalla data, dal condotto, quindi, a volte più dall'ufficio dei tutti, e ciò unicamente a capire di garantire alla città quanto più è possibile i servizi esistenti, all'occorrenza migliorati attraverso gli interventi mirati, attenti, vicini e informati sempre e comunque da un principio imprescindibile per noi, la solidarietà, la solidarietà social, che costituisce la base culturale dell'amministrazione mirata da Enzo Caracola e che ci verrà sempre che il fatto che la strada interattiva è stata in prima linea, ovunque, 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 inizia di sacrificio, dovete venire, dovete continuare a doverle dal lato. Grazie.